Per la Chiesa e per la società, il nostro Trentino, ma non solo questo, siamo il suo enorme contributo anche dello studio della storia e della storia della Chiesa, di tutta l'Italia, delle persone di elaborazione, del testo base, di formazione, di seminari, di difficoltà teologiche, di più che il Maier, è stato usato, che c'è appunto, e da lui rielaborato, tradotto e rielaborato. Oggi al suo contributo nella società civile, nel dialogo a inizio, in cultura germanica, in cultura italiana, la sua passione per il rinnovamento della Chiesa, proprio lui storico, perché della storia sapeva cogliere la tradizione migliore e non necessariamente i consuetudini più recenti, anche presentati magari in quelle tradizioni. Tanti sarebbero gli amaci che vorresti rendere, già incominciando la stampa, in mezzo di comunicazione sociale, iniziando il nostro settimanale, della trentina, quotidiani, raggiungendo la visione. Certo, quella dignità che lui stesso ha sempre sostenuto nella liturgia, che è obbliga a limitare queste espressioni, conservando il nostro cuore, non potendo esprimere poi testi scritti. Persevamo anche, si accogliere, poi resti qui in questa cattedrale, meglio di dispresso il desiderio di essere sepolto verso l'Evito, che è sempre amato. Siamo riconoscendo che anche il coro dell'Evito sia venuto animare questa nostra liturgia. Vedremo come vuole un segno poi anche in questa cattedrale per l'immenso lavoro di valorizzazione che gli ha reso per noi. Certo, tutti soffriavano tra le morti. Lui stesso diceva, le trattate le dicesima ore, però serenamente, con i patriarchi che si disponevano appunto a fare il passo della fiducia al Signore. Siamo vicini le tue sorelle, i cognati, tutti i nipoti. Un profondo grazie per averlo sempre sostenuto, aiutato a essere a servizio di tutto il nostro Chiesa, il nostro popolo. Un grazie particolare, Signore Emanuele, in questi ultimi anni, che è stato tanto vicino. La Sofia, che certamente lo accompagna nel suo pregrinaggio ora a Lourdes, della preghiera che lo ha aiutato per tanti decenni. ed anche una preghiera perché il cuore ha preso il Signore, che ha servito con generosità, con dedizione, con passione, interceda per noi. Grazie. 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 Grazie.